Questa è la mattina in cui hai capito che dovevi partire. Questo è il giorno della laurea di tua figlia. La notte in cui hai perso l'autobus e hai incontrato la tua futura ragazza. Le domeniche lunghissime a casa di tua nonna. E il viaggio che hai fatto con i tuoi amici quell'estate piovosa. Le storie sono ovunque, basta saperle cercare. Impara a raccontare le tue. Grazie a tutti.